Dalla lettera di San Paolo Apostola ai Romani Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, perché Egli sia il primo genito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Grazie. Grazie.